Ci risiamo, episodio 3 dell'Ultimate Fighter, TAF, Chandler contro McGregor, io sono Max Belù, l'italiano più americano del web. Pronto con il nostro ormai appuntamento settimanale per parlare del reality più artisticamente violento che la tv americana ci ha saputo dare. I combattenti alloggianti nella villa TAF sono stati divisi in due squadre, prospetti con McGregor, veterani con Chandler. Solo un fighter vincerà la competizione e si prenderà un contratto con la UFC, del pelato più importante del mondo dell'MMA. Ma riacchiappate il recap dell'episodio 1 e 2 del TAF se ve li siete persi, ma facciamo la corta e iniziamo. La squadra dei veterani di Chandler vanta due vittorie, entrambe arrivate nelle prime due puntate. McGregor invece attende la prima vittoria di uno dei suoi fighter. In questo episodio il Ground Specialist nel team McGregor, Aaron McKenzie combatte contro Austin Hubbard. Lo show inizia con McGregor che si allena in palestra con i suoi ragazzi, lui stesso partecipa in qualche seduta di sparring con i fighter. Connor le prova tutte per motivare la sua squadra che ancora non ha ottenuto una vittoria. Durante la seduta vede i suoi ragazzi un po' giù e dice Stiamo facendo ciò che amiamo, cazzo, mettetevi un sorriso in faccia. A un certo punto vediamo McKenzie soffrire un po' per un infortunio, apparentemente lieve. McGregor lo guarda e dice Individua dove si trova il dolore, mettici la mano, acchiappalo e sbarazzatene. Poco dopo Aaron McKenzie guarda direttamente la telecamera e dice Io faccio il lavoro che non vuole fare nessuno. Quando gli altri si credono bravi e si rilassano io sono in palestra e mi preparo per la prossima guerra. E poi continua Sono contento di combattere Hubbard perché per essere il migliore bisogna battere il miglior fighter della villa. Vado per il knockout, ma prima deve soffrire. McKenzie è un fighter da 8 vittorie e 3 sconfitte come amatore. Poi diventa professionista con 11 vittorie e 2 sconfitte. Esperto nel jiu-jitsu, forte nel grappling. McGregor lo dice, Aaron è molto astuto, calcolato e calmo nel momento del bisogno. Ma ora le attenzioni vanno su Austin Hubbard. Hubbard ha perso suo fratello due anni fa e dice che da quel momento la vita non è stata la stessa. Nel confessionale dice La vita mi sta mettendo seriamente a dura prova. Certo è che avere questa opportunità a 31 anni è qualcosa di indescrivibile. Ho sprecato la mia prima chance in UFC, ma non succederà un'altra volta. Hubbard è infatti un ex campione dei lightweight con un record di 15 vittorie e 6 sconfitte. Fu buttato fuori dalla UFC in seguito a 4 sconfitte in 7 incontri disputati. Dana però dice che ha voluto dare Hubbard un'altra chance perché lavora sodo ed è un ragazzo estremamente disciplinato. Una curiosità su Hubbard è che si allena in Colorado con Justin Gage che in un'intervista dice che Hubbard è un tipo veramente tosto. Chandler intanto si augura che Hubbard inizi il fight aggressivo. Dice espressamente Austin ha più talento, esperienza, forza e se non merita di più. Questo ragazzo è forte in tutti i campi. Ha combattuto campioni del mondo e non ha mai fatto brutta figura. Non si aspetta di essere sorpreso da questo combattimento. Chandler chiude dicendo che essendo gli incontri del TAF da due soli round non si può partire senza il piede sull'acceleratore. Intanto si arriva alla sera nella casa TAF. I fighter parlano di cosa vuol dire per le loro madri venire a vedere i loro incontri e cosa vuol dire per loro. Gutierrez intanto si apre con i ragazzi alla casa e dice che sua mamma per esempio veniva a vedere i suoi combattimenti finché non lo ha visto perdere malamente. Aaron McKenzie dall'altra parte dice che sua madre non viene sempre ai suoi combattimenti perché è troppo nervosa. Lui però dice che non c'è niente che lo tranquillizza e gli dà più fiducia che vedere la madre sostenerlo nelle sue battaglie. Insomma un bel momento di confessione tra i ragazzi della TAF house che in questo momento di serenità si aprono su problemi che si sono trovati a dover affrontare nel corso della carriera. In uno sport come le MMA, l'approccio della famiglia, dei fighter è un tema poco discusso però è interessante che questi ragazzi abbiano deciso di aprirsi a riguardo. Cambio di scena, siamo quasi al giorno del combattimento che tutti aspettiamo ma prima vediamo un bel incontro tra McGregor e un bambino che ha viaggiato da una parte all'altra degli Stati Uniti per far vedere al suo idolo le action figureson che ha costruito per lui. McGregor si offre di conoscere il bambino, gli fa tanti complimenti, sorrisi, lo fa emozionare e infine gli lascia anche mille dollari per comprare queste action figureson. Il bambino intanto rimane a bocca aperta totalmente incredulo. Ma andiamo al waiting day, nessun problema sul fronte, i fighter sono pronti per affrontare uno degli incontri più importanti della propria carriera, nulla li fermerà dall'entrare nella gabbia che determinerà il loro destino. Inizia il fight, qualche colpo pesante in apertura di Austin Hubbard ai danni di McKenzie che però riesce con il grappling ad andare in posizione di dominio. Ma la situazione si inverte con Hubbard sulla schiena di McKenzie. Bellissimo montante di McKenzie che mette il suo avversario in difficoltà per un momento. Risposta di Hubbard che scaglia una ginocchiata potente sulla bocca dello stomaco. Devo dire molto divertenti i primi minuti di questo fight. Poi parte il montante strepitoso di Hubbard che manda McKenzie giù. Attenzione perché parte la sfuriata di Hubbard che prova a prendere McKenzie con ginocchiata e calci mentre quest'ultimo prova a dileguarsi. Aaron sale sopra McKenzie mentre sta sul tappeto lì per perdere l'incontro ma il tempo sul cronometro finisce. McKenzie si salva nonostante sia quello messo peggio alla fine del primo round. Vediamo se però nel secondo round le cose possono invertirsi e vediamo se McKenzie avrà una reazione. Infatti parte meglio McKenzie che tira molti low kick alle gambe e fa anche qualche buono scambio ma le cose cambiano quando Hubbard prende nuovamente la schiena di McKenzie che per il resto del round dimostra di portarsi sul groppone la stanchezza dovuta allo sforzo fisico che gli era richiesta per sopravvivere fino a lì. Il secondo round è una pioggia di gomitate sul volto di McKenzie. Finisce l'incontro che per decisione unanime viene dato ad Austin Hubbard. Delusione per McKenzie ma stretta di mano tra i due. Insomma da una parte abbiamo una piacevolissima area di vittoria nello spogliatoio gender mentre nello spogliatoio di McGregor vediamo grande amarezza. McKenzie dice di aver combattuto con tutto se stesso ma stasera non è stato lui il miglior fighter. Si legge chiara negli occhi la tristezza di McKenzie mentre viene portato in ospedale ma questo sport è così. Uno sport che ti porta in paradiso quando vinci e giù nei meandri dell'inferno più tetro e caldo quando ricevi una sconfitta. Il fighter vero si vede nelle sconfitte non nelle vittorie, questo ricordiamocelo. In paradiso ora invece ci vive Hubbard a cui mancano due combattimenti e dunque due vittorie per essere un nuovo lottatore UFC. Se vi siete goduti questo recap della puntata 3 dell'Ultimate Fighter e ne volete vedere altre iscrivetevi al canale seguite Max Bellu, l'italiano più americano del web e ricordatevi che stiamo parlando di Italian Fight Magazine il più grande canale di MMA che parla italiano. CBA, never said I've been on my ground for seven days Need a raise Swear to god I'll never be the same TBH T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-TBH